Date la mano, in termini statistici qualcosa cambia, questo è sicuro, però questo vuol dire che dobbiamo cercare di cambiare un po' questa tendenza, quindi ormai abbiamo già assoluto una possibilità importante, sappiamo che a vero che non sarà certamente facile, se non la lotta sarà fantastica, è una squadra importante che vuole fare i risultati di tutti i posti e questo è considerato l'ultimo periodo l'oro, però questo vale il pregato per noi, quindi non abbiamo vero per fare certamente una comparsa, ma andiamo a vero perché siamo cominciati a fare il risultato, quindi ce la giocheremo, la pari con l'Atalanta, vedremo poi alla fine cosa verrà fuori, però è chiaro che domani ci vuole veramente una prova importante e direi che siamo nella possibilità di poterlo fare, dipende molto da noi, è chiaro che la pari con l'Atalanta ci metterà il più possibile bastare le ruote, ma noi cercheremo di fare una buona gara.